Il weekend di Barcellona non è finito domenica con la gara della MotoGP ma con i test di Moto2 e Moto3 con le gomme nuove, con le Pirelli che entreranno in vigore il prossimo anno. E nonostante questa sia la settimana del Gran Premio di San Marino e che siamo tutti carichi a molla, oggi parliamo un po' di Moto2 e Moto3. Ormai lo sappiamo, per quanto riguarda questa stagione non ci sarà niente da fare, Dallop continuerà a essere fornitore delle classi minori per poi uscire dopo Valencia. E entrerà quindi Pirelli al suo posto. Però anche solo per avere qualche sensazione prima dell'inizio della stagione nuova con i test nuovi e tutto è bene fare un po' di rodaggio. Ed ecco quindi che Dorna ha preparato dei test da fare di Moto2 e Moto3 che si sono fatti all'inizio della settimana proprio a Barcellona. E oggi quindi vediamo quali sono state le sensazioni dei piloti di Moto2 e Moto3, dei vari team, le differenze con le moto e tutto. Insomma facciamo un video un po' più tecnico e parliamo anche di quelli che potrebbero essere dei movimenti interessanti anche in chiave mondiale. Partiamo dalla Moto2. Tutto sommato Pirelli è piaciuta, è piaciuta a tutti. Il posteriore è un po' più grande, è una dimensione leggermente maggiore rispetto a quella di Dallop. E soprattutto si è capito che con queste Pirelli si può frenare più forte, si può frenare più avanti e guadagnare qualche decimo. Questa è una caratteristica a cui piace soprattutto a chi è venuto appena su dalla Moto3 che si ricorda ancora ancora bene in testa quello stile di guida. Al posteriore piace di più una configurazione più morbida, davanti invece tanti hanno preferito, o comunque l'hanno provata tanto quindi vuol dire che non è stata un'idea dispiaciuta, mettere una hard, una configurazione più dura. Probabilmente perché dà più stabilità. Inoltre le Pirelli sembrano avere rispetto ad Dallop un grip clamoroso. Pressione e temperatura, in generale il comportamento della gomma è molto più gestibile, molto più prevedibile. Dopo tre giri la gomma perde un po' di prestazione, ecco diciamo che per quella che sarà probabilmente anche la qualifica, il range per fare il tempo con il massimo di prestazione possibile sarà dal secondo al terzo giro. Poi si comincia a fare fatica, ma la cosa che è venuta fuori è che in generale il passo sulla lunga distanza dal punto di vista del tempo sul giro rallenta molto, degrada molto meno rispetto a quello attuale con le Dallop. Sarà perché Pirelli rispetto ad Dallop pesa molto meno, 6 kg contro i 10 dell'attuale fornitore, oppure perché nel passo della lunga distanza perde molto più peso, 800 grammi più o meno a gara, quello che emerge dal paddock della Superbike in cui Pirelli milita già da un bel po' di tempo, contro gli attuali 250 circa. Vogliamo parlare di tempi, ovviamente ritorna il mantra del sono solo test, quindi non guardiamo la posizione, però è interessante vedere il tempo in sé. La pole position di sabato con le Dallop è 1,44 e 0 di Dixon, no? Arenas ha girato in 1,43 e 2, 8 decimi più forte. Quindi in generale avremo una Moto2 che gira di media dai 5 ai 6 decimi al giro più forte a pista. Siamo solo a Barcellona, bisognerà vedere anche nelle altre piste quando le riproveranno nei test prestagione, probabilmente non so se ci saranno altre giornate dove proveranno le gomme nuove da qui alla fine a Valencia, però sicuramente avremo una Moto2 che gira più veloce. Ecco, attenzione perché ha girato con la Moto2 del team Ayo anche Danny Zonciu, che manca l'ufficialità però ormai possiamo dirlo, correrà con il team Ayo il prossimo anno, lato a costa. E non ha fatto neanche un bruttissimo tempo, 1,44 e 9 con uno stile di guida che a detta di chi era lì lo vede già pronto per la Moto2, uno stile di guida già completo e formato per la Moto2. E tutto sommato girare un secondo e mezzo dal primo al primo test che fai con la Moto2 non è male. Per quanto riguarda la Moto3 invece si è capito una cosa, il grip è alto, altissimo, molto più alto rispetto a quello con le Dunlop. La gomma in sé è più performante in percorrenza rispetto all'attuale Dunlop e soprattutto si riescono a avere dei miglioramenti nella fase finale della curva, in accelerazione. In più Alonso, Olgado, Rueda e Sasaki hanno provato la KTM 2024 e si dice che la KTM 2024 sia una moto che calza completamente a pennello con le nuove Pirelli. Alonso ha avuto un passo costante in 1,48 e 5 e la pole position di sabato era 1,48 e 2. Vuol dire girare costantemente un secondo e mezzo più forte di quanto si girava in gara. In più un'altra cosa, raffreddare la gomma sembra avere effetti catastrofici sulla prestazione della gomma. Quindi questo vuol dire che cambierà, o almeno credo, l'approccio alle qualifiche della Moto3. Rallentare per aspettare qualcuno per una scia se sei già davanti potrebbe comprometterti e non poco la prestazione in sé. Sarà quindi molto più complicato prendere la scia di qualcuno per aspettarlo o fare i cosiddetti doppi passi. Che per chi non lo sapesse è quando sei davanti e hai qualcuno che ti vuole prendere la scia, ti fai un ride through che è passare dalla pit lane e fare andare gli altri, farli sfilare e fare il giro da solo. Appena devi uscire dal box devi trovare il modo di scaldarla e da lì poi non puoi più freddarla. Per quanto riguarda i tempi, a parte il passo incredibile di Alonso, hanno girato forte in qualifica lo stesso Alonso, in qualifica in time attack, lo stesso Alonso ha fatto 1.47.2. Ma in generale quasi tutti hanno girato su un 48. Bertelle 48.3 con entrambe le mescole, stesso tempo ha fatto Nepa senza scie. Almanza anche ha fatto un test a metà con Romano Fenati, hanno girato un po' con la stessa moto, ecco sono un po' alternati e sappiamo che Romano non sarà in Moto3 il prossimo anno ma al suo posto verrà proprio David. Per essere uno che non è ancora un pilota ufficiale e che la Moto3 l'ha provata molto meno rispetto agli altri, ragazzi girare in 48 a pochi decimi da Bertelle è tanta roba. Ha girato anche Luca Lunetta con il team Sic58 con tanto di tuta di AC Racing, quindi direi che se abbiamo bisogno di un segnale, se avessimo bisogno di un segnale per capire dov'è che correrà Luca il prossimo anno, direi che è arrivato, ecco sarà Sic58, che poi un 58 nel team Sic58, molto poetico. Ha girato poco Masià, ha fatto un 1.48 e 9 ed è comprensibile perché dai praticamente lui deve andare in Moto2 il prossimo anno, è praticamente ufficiale, non si sa con che team ma Leopard non c'è più posto, andrà a Picheras al suo posto, quindi un accordo ce l'avrà con un team di Moto2, considerando che in Moto3 la sua carriera è quasi finita, ci sta che non volesse prendere troppa confidenza con le Pirelli ma dovesse gestire al massimo Dunlop per provare l'assalto al titolo in quest'ultima parte di stagione. Adesso si va a Misano ed è un po' un punto di non ritorno per quanto riguarda il Mondiale, sarà importantissimo fare bene per i piloti italiani per provare a cambiare un po' la rotta di questa stagione un po' opaca per quanto riguarda l'Italia. Sarà interessante vedere anche la situazione davanti, come si evolverà, che qua tutte le gare sembra cambiare tutto, Masia che prima sembra un Mondiale finito andato a che gli recupera tutto con lo 0 di Olgado a Barcellona, un Olgado che sembra aver già vinto ma poi fa l'errore che ti stravolge un po' le carte, un Onciu che bene o male è sempre lì, non si allontana mai, sarà interessantissimo. E poi chiaro, in Moto2 Tony deve assolutamente provare a invertire la tendenza che sta andando e non poco verso la costa. Come al solito ragazzi vi ricordo di seguirmi su Instagram, di seguirmi su TikTok, tutti i link sono qua sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! A proposito, ci vediamo a Misano, venite su Instagram che ne parliamo.